Sono dottor Francesco Liviero, medico, specialista in preumologia e in psichiatria e oggi vorrei parlarvi di un tema fondamentale per quello che riguarda la prevenzione primaria e secondaria dalle malattie. Abbiamo già parlato in precedenti video dell'importanza dell'acqua che beviamo e del cibo che mangiamo e oggi vorrei parlarvi dell'altro paradigma per quello che riguarda la prevenzione primaria e secondaria dalle malattie molto importante che è quello della consapevolezza. Quando si parla di consapevolezza individuale si parla di qualcosa che viene considerato un vero e proprio termine eretico. Io invece ritengo che ognuno di noi abbia un grande potenziale di autoguarigione, il nostro corpo si autoguarisce da solo momento per momento e questo è legato sempre a una visione globale dell'essere umano in ambito proprio per noi, quindi la psico-neuro-endochino- quindi sappiamo che il sistema endochino, sistema immunitario, sistema nervoso centrale e periferico sono direttamente collegati con la psiche e quindi un medico o un terapeuta, colui che si dedica alla relazione d'aiuto, deve tenere presente sempre questo paradigma, cioè questo collegamento fondamentale tra la psiche, il sistema nervoso, il sistema endochino e il sistema immunitario e un ragionamento che ha questo fondamento ci porta poi a comprendere sempre di più che all'interno del nostro organismo ci sia un vero e proprio potere di autoguarigione, quella che Ippocrate chiamava vis guaritrix natura, la forza guaritrice della natura che oggi viene sempre più sottovalutata. Allora ci sono delle tecniche che servono proprio per potenziare questo processo di autoguarigione e quindi oggi vi vorrei insegnare una tecnica di autoguarigione che io ho denominato metodo mago, metodo di autoguarigione olistica e che ritengo sia fondamentale perché è una tecnica velocissima che si fa per pochi minuti, almeno due volte al giorno per un mese, focalizzando l'attenzione su un problema fisico oppure un problema emotivo. Problema fisico quindi che riguarda una problematica di un organo, di un sistema, di un apparato del corpo, una situazione di vera e propria patologia oppure un problema emotivo quindi una situazione che riguardi fobie, paure in generale, emozioni come la rabbia, il senso di colpa tutte quelle situazioni emotive che affrontiamo nell'arco della giornata ma che se diventano pervasive nella nostra realtà quotidiana creano poi tutta una serie di disturbi sempre nell'ottica apnea, il psico-neuro-endocrino-immunologica. Il metodo parte da questo presupposto. Uno psichiatra americano, Diamond, aveva scoperto qualcosa di molto importante. Tutte le volte che noi facciamo un'affermazione e picchiettiamo praticamente sul timo, quindi la zona è quella del quarto chakra, quindi esattamente questa, quindi per le donne all'attaccatura del seno, ecco tutte le volte che noi facciamo un'affermazione e picchiettiamo sul timo, quell'affermazione viene amplificata. Questo l'aveva scoperto già la Chiesa Cattolica nel Medioevo, perché vi ricordo che ancora oggi in tutte le funzioni ecclesiastiche viene descritto l'atto penitenziale, che è questo, confesso a Dio nipotente e a voi fratelli di avere molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, e ci si batte il petto tre volte per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. Tutto questo a livello energetico crea un abbassamento del livello di energia dell'individuo, perché sappiamo benissimo che il senso di colpa è una delle emozioni più devastanti che l'essere umano possa provare ai fini della sofferenza. La colpa non ammette limiti, mentre sappiamo che delle altre emozioni naturali come la paura, la rabbia, ci sono dei limiti oltrepassati quali. La paura diventa panico, la rabbia diventa ira e quindi dobbiamo cercare di vivere queste emozioni senza superare un certo limite. Nel caso colpa non c'è nessuna limitazione, tutte le volte che noi diamo la colpa a noi stessi o diamo la colpa agli altri dei nostri problemi, non facciamo altro che abbassare il nostro livello di energia. E quindi il mio consiglio è quello di non nominare mai più la parola colpa che deve essere trasformata in responsabilità, che significa abile a rispondere. Non dovremmo dare la colpa a nessuno dei nostri problemi, tanto meno a noi stessi e quindi dovremmo fare questo lavoro di presenza trasformando la parola colpa in responsabilità. Significa mi assumo il 100% di responsabilità di tutto quello che è accaduto nella mia vita, non è mai colpa di nessuno, non è colpa degli altri, non è colpa neanche mia e assumendomi il 100% di responsabilità, non avendo aspettative mentali, cioè non aspettandosi niente da nessuno, altrimenti daremo sempre la colpa agli altri che non hanno aderito alle nostre aspettative mentali o a noi stessi perché ci siamo illusi aspettando un intervento esterno, quindi assumendosi il 100% di responsabilità di tutto quello che è avvenuto nella nostra vita, non avendo aspettative mentali e trasformando i problemi come un'opportunità per cambiare, la crisi diventa un'opportunità di cambiamento e diventando dei veri e propri sistemi di flusso, facendo in modo che quello che arriva dall'esterno se è in risonanza con noi può essere trattenuto, ma se non è in risonanza con noi deve essere eliminato. Ecco questi sono poi i concetti di una tecnica molto interessante che si chiama Ho'oponopono che deriva dalle isole Hawaii, stiamo parlando di migliaia e migliaia di anni fa e serviva per dirimere le controversie all'interno dei vari villaggi e si recitava un mantra, mi dispiace, ti prego, perdonami, grazie, ti amo e fondamentalmente questi sono i principi dell'Ho'oponopono, cioè fare in modo da non avere aspettative mentali, trasformare i problemi in opportunità per cambiare, assumersi il 100% di responsabilità di tutto quello che è accaduto nella nostra vita e diventare un sistema di flusso senza trattenere qualcosa che non è in risonanza con noi. E oggi vi parlo poi di una tecnica ancora secondo me più efficace rispetto all'Ho'oponopono o almeno che ha altre caratteristiche che il metodo mago. Quindi partendo dalle ricerche di Diamond, questo psichiatra americano, tutte le volte che noi picchiettiamo sul timo, quindi che poi per chi conosce il chakra, stiamo parlando del quarto chakra, qui nella donna e l'attaccatura del seno, quindi nella zona centrale del petto, facendo un'affermazione, quella affermazione viene amplificata. Secondo le ricerche di Masaru Emoto, scettatore giapponese, che scoprì che le parole che formano i migliori cristalli d'acqua quando l'acqua viene cristallizzata a 5 gradi sotto zero, sono le parole amore e gratitudine. Quindi l'acqua riceve le informazioni da parte di suoni, musica, parole che vengono messe sulla bottiglia e poi quest'acqua viene congelata a 5 gradi sotto zero e appena l'acqua forma dei cristalli meravigliosi con le parole amore e gratitudine. E quindi partendo dalle ricerche di questo ricercatore giapponese, Masaru Emoto, ecco possiamo affermare, fare questa affermazione, io anima, ci rivolgiamo alla nostra parte animica, esprimo amore e gratitudine, picchiettando 5 volte sul timo, quindi all'attaccatura del seno per le donne e per quello che riguarda appunto la parte centrale, nella zona dove c'è una fossetta a livello proprio del petto per quanto riguarda gli uomini, quindi siamo nella zona sottosternale. E quindi picchiettiamo la prima affermazione, io anima, esprimo amore e gratitudine, dobbiamo dirlo 5 volte. Io anima, esprimo amore e gratitudine, 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 io anima, esprimo amore e gratitudine. Poi sappiamo che possiamo focalizzarci su un problema, può essere un problema fisico o un problema emotivo. Il problema fisico può essere una determinata patologia, il problema emotivo può essere una situazione emotiva. La regola fondamentale è non nominare più sul problema, quindi nel suo specifico, ma chiamarlo semplicemente questo problema. Quindi sto lavorando su una patologia, oppure sto lavorando sul mio senso di colpa, oppure sulle mie fobie, oppure sulla mia paura. Dopo aver fatto l'affermazione per 5 volte iniziale, io anima, esprimo amore e gratitudine, possiamo dire, qui ed ora, sempre picchiettando sul timo, qui ed ora, da ogni dimensione, io anima, mi rivolgo alla parte responsabile di questo problema, sapendo su cosa stiamo lavorando, ma non nominandolo più, vai avanti ed eliminalo, 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 vai avanti ed eliminalo 5 volte. Quando dovrebbe essere fatto questo esercizio, questa tecnica così semplice, che dura meno di un minuto, l'ideale sarebbe farlo quando siamo in onde alfa, che sono le onde del rilassamento a livello cerebrale. E cioè, la sera, prima di addormentarsi dopo aver spento la luce al letto, la mattina, al risveglio, prima di metterci in piedi. In quel momento siamo in onde alfa, che sono appunto quelle del rilassamento. Possiamo comunque farlo in qualsiasi altra ora del giorno, ma ovviamente dobbiamo essere in posizione antigravitaria. Quindi lettino, letto, chaise longue, divano comodo, oltre una comoda, facendo in modo che qualsiasi muscolo del nostro organismo sia rilassato. Quindi non va affatto in piedi, non va affatto seduto, ma va fatto in queste posizioni di rilassamento. Se c'è eccessiva luce, consiglio di mettere una mascherina sugli occhi, perché quello che è fondamentale è questo lavoro introspettivo. Quindi, riepilogando, lavoriamo su un problema fisico, un dolore, mal di testa per esempio. Abbiamo quindi questo mal di testa. Per cinque volte diremo, io anima, esprimo amore e gratitudine, picchiettando sul timo, mettendoci in posizione antigravitaria. E poi, per altre cinque volte diremo, qui ed ora, da ogni dimensione, io anima, mi rivolgo alla parte responsabile di questo problema, quel caso sarebbe il mal di testa, ma non lo nomineremo più. E per cinque volte diremo, vai avanti ed eliminalo, vai avanti ed eliminalo, vai avanti ed eliminalo, vai avanti ed eliminalo, vai avanti ed eliminalo. È suggestivo farlo con gli occhi chiusi, mettendosi appunto in posizione antigravitaria. Se è un problema cronico, consiglio di farlo almeno per un mese, mattina e sera. I momenti ideali, ripeto, sono la sera prima di addormentarsi, la mattina a risveglio. Ricordo che possiamo lavorare anche su fobie, problematiche emotive, paura, rabbia, senso di colpa, invita, gelosia, orgoglio, qualsiasi tipo di emozione. Se sono emozioni che sono strutturate, che derivano già da, sono collegate con un problema, con problemi appunto che derivano da mesi o anni, consiglio di farlo almeno due volte al giorno per un mese. Possiamo anche lavorare su vari aspetti, ovviamente uno alla volta, quindi ho un problema fisico, il mal di testa, oppure un problema di una malattia cronica, cronico-degenerativa. Lavoro su quel problema, poi voglio lavorare su un problema di tipo emotivo, farò di nuovo l'esercizio stavolta appunto in un altro momento della giornata e cercherò di farlo sempre due volte, quindi l'ideale sarebbe due volte al giorno, mattina e sera. Quindi posso lavorare anche su decine e decine di situazioni sia emotive che fisiche, ovviamente una alla volta. Questo metodo si chiama metodo MAGO, metodo di autoguarigione olistica e fa parte proprio dei temi fondamentali della consapevolezza dell'autoguarigione. Sono temi tabù per la medicina ufficiale, ma io considero, ritengo dopo 40 anni di professione medica, che sia qualcosa di importantissimo ai fini proprio della prevenzione primaria e secondaria dalle malattie e per lavorare su se stessi, sulla propria consapevolezza sul proprio senso della vita, sul senso della malattia, su tutto ciò che riguarda la sofferenza e a questo punto vi consiglio di leggere il mio libro Benattia, sta per essere pubblicata dalla macroedizione, quindi dalla casa editrice macro, probabilmente dall'autunno, la nuova edizione che tiene conto anche di tutto ciò che è successo negli ultimi quattro anni, quindi sono stati ampliati dei capitoli sui virus e sulle malattie in generale. Quindi Benattia, edito da macroedizioni, che verrà pubblicato nell'autunno.